Ho girato per più di vent'anni quei paesi in situazioni di guerra, in situazioni molto complesse, l'Egitto. Insomma, ho intervistato Abu Omar al Cairo, per cui l'imam che era stato sequestrato da Milano. Per cui, insomma, conosco bene quelle realtà. Se i servizi egiziani o la polizia ti considera una persona scomoda, te lo fanno capire in mille modi prima. Se hanno bisogno di prendere un'informazione che conservi nel computer o nel cellulare, ti sequestrano il computer o il cellulare. Cioè, quello che è accaduto va al di là, diciamo, della normale modalità con cui si muovono i servizi e la polizia con cittadini stranieri di paesi, tra virgolette, amici. La seconda cosa importante da capire è che, diciamo, si è detto Giulio Reggiani era una spia. È una sciocchezza enorme. Giulio Reggiani era un ricercatore, un giovane ricercatore, che faceva un lavoro, certamente che aveva come tema un argomento scomodo, ma per carità, questi sono veleni. Cioè, questi sono veleni, perché è un modo in qualche, no, in certo senso per, diciamo, offrire una sponda a chi può dare poi una versione di comodo. E poi, essendo l'Egitto uno stato di polizia, lo era con Mubarak, lo è stato con i fratelli musulmani e lo è con Al-Sisi, perché la struttura è quella, a livelli medio-bassi, rimangono sempre gli stessi uomini. Diciamo, veramente pensiamo che un cittadino straniero possa sparire in un buco nero?